Musica Cari telespettatori bentornati in diretta, questa sera torniamo ad ospitare il primo cittadino di Fano Massimo Seri, buonasera Sindaco Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori I numeri di telefono ormai li conoscete a memoria, ci avete inviato decine di messaggi, tra poco inizieremo a leggerli Sindaco, questa mattina ci siamo visti in comune perché avete presentato un importante bilancio di previsioni da oltre 155 milioni di euro Invece nei giorni scorsi si è assentato perché è andato a Lione, a fare che cosa? Sì, sono andato a Lione perché mi ha chiamato il sindaco di Lione, la città di Lione, perché volevano conoscere l'esperienza della Fano Città delle Bambine e dei Bambini La dimostrazione è che, e questo mi fa anche piacere, che in questi anni che sono sindaco la città è sempre diventata sempre più internazionale, riconosciuta molto anche all'estero E questo non è un vanto per il sindaco, è chiaro che io mi sento orgoglioso quando la nostra città riceve riconoscimenti in giro per l'Europa e non solo Quindi sono andato lì, è stata un'occasione, mi hanno inospitato, invitato, ci hanno cercato loro, non ci siamo autoinvitati, tengo a sottolineare Fra l'altro Lione è la terza città di Francia, quindi è anche importante, è stata un'occasione per promuovere anche la nostra città Perché abbiamo raccontato un'esperienza, poi in realtà è stata occasione per girare in più città perché mi hanno portato, hanno chiesto, mi hanno fatto intervenire in diverse conferenze Ma in particolare in una che era veramente internazionale dove c'erano rappresentanze di tutta Europa in presenza ma anche in collegamento Poi ha portato il suo contributo anche il professor Francesco Tonucci, che è il nostro concittadino, ricercatore del CNR, è stato anche un fautore del progetto Fano città delle bambine e dei bambini, quindi è stata un'occasione per promuovere la città e per farci conoscere, ma in realtà ci conoscevano perché ci hanno cercato loro Quindi anche motivo di orgoglio Esatto Anche domani un importante appuntamento Sì, domani mi vedrò con il sindaco di Grosseto perché abbiamo condiviso la necessità di coinvolgere poi anche tanti altri sindaci Perché la E78 penso sia rimasta una delle poche incompiute È vero che c'è un'accelerazione delle risorse destinate però il nostro tratto è quello che ancora soffre maggiormente Ma soprattutto si è andato in una direzione riduttiva Io penso che la E78 debba arrivare alla sua ultimazione ma con le quattro corsie Fra l'altro ho una chiosa, conservo perché in passato il senatore Righetti me l'aveva così regalata Parlando della E78 ho una fotocopia di un telegramma del 1969 dell'allora ministro ai lavori pubblici Mancini che scriveva dopo un consiglio dei ministri informava l'allora senatore Righetti del nostro territorio Che era stato finanziato il primo e il secondo stralcio della E78 Fano Grosseto Siamo nel 2021 e quell'opera non è ancora conclusa con il traforo della Guinza che è ancora lì Quindi pensiamo, fra l'altro ci troviamo anche in sintonia Anche con l'assessore regionale, lavori pubblici che tiene una posizione che io condivido Quindi c'è anche una posizione condivisa anche di fronti diversi politici Questo è un elemento che deve rafforzare tutti Per cui domani siamo a condividere questo percorso Poi verrà anche a Fano il sindaco di Grosseto E pensiamo di organizzare una serie di iniziative Proprio per far sì che ci sia un'accelerazione Che si mettono ulteriori risorse Per riportare all'origine quello che era il progetto vero della E78 a quattro corsie Che non è soltanto una volontà, un capriccio Ma è un'esigenza perché altrimenti il rischio che questo territorio rimanga isolato E l'abbiamo già visto con la quadrilatero Quali effetti ha portato anche in termini turistici a favore di altri territori A proposito di strade ci stanno arrivando tantissimi messaggi con le vie Per le quali chiedono i lavori di asfaltatura C'è anche chi ci ha inviato in questi giorni alcuni video, foto Iniziamo a farveli vedere Cercherò di fare una carrellata perché insomma leggerli tutti è un po' lungo Il 7 ottobre ho mandato delle foto della strada a località Prelato in condizioni disastrose Nonostante le diverse mail e telefonate all'ufficio preposto del comune Da parte dei residenti nessuno si è interessato del caso Ora a distanza di due mesi mando un video che evidenza il peggioramento del manto stradale E rischia ogni volta di rompere qualche pezzo delle macchine Visto che non siamo cittadini di serie B vorremmo una risposta positiva Dalle persone addette ai lavori che noi contribuiamo a pagare con i nostri tributi Questo tratto che va dalle colonne del cielo e finisce a Pontevarano Rientra nel programma di asfaltatura E ancora volevo avere informazioni sulla strada comunale Cimitero Bellocchi a Rosciano Anche qui è prevista questo tratto che da Rosciano porta al cimitero pieno di buche Ed è pericoloso soprattutto per chi va in bici e in motorino Spesso per evitarle rischiano collisioni con le auto Chiedono anche informazioni per la strada che da Tombaccia porta a Caminate Via Lebreccia-Baia-Metauro che è quasi inaccessibile da quanto è disastrata Strada di Mezzo che è anche in questo caso con la Brodo Poi la strada comunale di Crocelevata nel tratto che porta alle Cave Chiedono a Ronco-Sambaccio di poter intervenire Via Campanella dal Codma che porta a Via Tognolo Via Aureliano e poi Via Ferriano a Sant'Angelo Insomma la lista è lunga Le vie che ci chiedono sono veramente tante Ecco questa è quella relativa a Via Lebreccia-Baia-Metauro Sicuramente via Aureliano se non sbaglio Ah ok ok Adesso questa è una situazione causata dalla tempesta degli ultimi giorni Comunque noi stiamo adesso abbiamo ultimato un appalto di un milione di euro di asfaltature Che ha avuto un anno di ritardo In questi giorni all'ufficio appalto i contratti c'è una gara per 3 milioni e 7 di nuove asfaltature Che poi in realtà sono di più perché con il ribasso alle economie aggiungiamo altre vie a quell'elenco Infatti alcuni mi hanno anche chiamato manca questa via che aveva lei già annunciato Sì ma in realtà verrà integrata e quindi è da considerarsi nel lungo elenco di quello che si vede pubblicato sul sito Poi a queste ne aggiungeremo delle altre alcune anche ad hoc Vedo queste immagini qua di Via Aureliano Quella va fatta entro l'estate E' un impegno che avevo già assunto come abbiamo fatto lo scorso anno per un'altra via del lungomare Che aveva necessità, c'erano veramente dei crateri Però dobbiamo anche essere consapevoli che se tutte le strade che abbiamo elencato Tutte e tutte ci vorrebbero 15 milioni di euro per asfaltarle tutte Ed è comprensibile sotto gli occhi di tutti, è impossibile Quindi dobbiamo fare delle scelte, delle priorità Dandoci dei criteri che sono il traffico, il grado di vettustà, di disagio Insomma è come in questo caso che è sotto gli occhi di tutti Quindi l'appalto che adesso deve uscire entro il 31-12 Per cui è questione veramente di giorni Poi dovranno partire, fatta e spettata la gara Tanto questi lavori di asfaltatura si fanno a primavera Quindi c'è l'obbligo di partire entro fine marzo Quindi su questo insomma non ci sono dubbi Invece sulla caserma ci sono novità? Beh sulla caserma adesso veramente abbiamo finito tutto Tutto l'iter La ditta è da ottobre che può iniziare Da novembre diciamo Che può iniziare i lavori Adesso con sto fatto, con sta storia del 110 Le tendono a rallentare Però ho parlato proprio questa mattina Sapendo di venire anche qua con il nostro ingegnere capo Mi ha detto, mi ha comunicato Che la ditta ha inviato la lettera Ci ha risposto perché intemperiamo di prendere e iniziare i lavori Che inizierà dopo la Befana Quindi dopo le festività Per cui a questo punto salvo imprevisti Iniziano i lavori Il lavoro dovrebbe essere un anno e mezzo di lavori Potremmo inaugurare la nuova caserma dei vigili fuoco di Fano Chiedono informazioni anche per l'ex AGIP L'ex AGIP stiamo procedendo Abbiamo fra l'altro avanzato anche delle ipotesi di riqualificazione Però su quello c'erano delle perplessità Ci hanno chiesto di rintegrare il progetto Quindi adesso stiamo ragionando per affidare un incarico di progettazione E per poi appaltare i lavori di riqualificazione Ovviamente non è una questione di un paio di mesi Come sappiamo le opere Però si va in quella direzione Che sarà uno spazio riqualificato Per rendere la città più bella e accogliente Nella sua agenda ci sono diversi appuntamenti Tra questi la presentazione del Waterfront Prevista per giovedì 16 E poi anche con i cittadini di Rochano Sì, il 17 faremo un'assemblea con i residenti di Rochano Perché abbiamo iniziato a fare assemblea in tutti i quartieri Poi ci interromperemo Dopo il 17 riprenderemo dopo il 6 gennaio Perché ovviamente durante le festività Penso che non sia il caso di andare a convocare delle assemblee cittadine Dove andiamo a spiegare quello che abbiamo fatto Quello che vorremmo fare Cioè quello che abbiamo già in cantiere in programma E anche a raccogliere le osservazioni E eventuali critiche proposte Che sono sempre utili Il Waterfront è uno di quei progetti bandiera Si parte Abbiamo espletato il concorso di idee Abbiamo due studi che si sono aggiudicate Il concorso A questi affideremo Adesso presenteremo il concept Ovviamente non è un progetto Sono delle suggestioni Però è la prima tappa Raccontiamo queste suggestioni E poi dividendo per la parte sud Rete Ponte Sasso E per la parte nord Lido Sassogno Faremo tutti gli incontri con gli stakeholder Con tutti gli operatori Con tutti quegli soggetti Che in qualche modo Sono parte attiva Per coinvolgerli nell'elaborazione del progetto Però l'idea è quella Di un progetto ambizioso Come abbiamo fatto nelle riqualificazioni del centro In alcuni quartieri Perché se vogliamo fare Volere una città più bella Dobbiamo investire e fare le cose Bisogna essere ambiziosi Perché se vogliamo essere come siamo Anche città turistica Avere una bella città fa la differenza E siccome stiamo andando in quella direzione Tanti cantieri che partiranno a breve Abbiamo avuto anche altri finanziamenti Quindi quella è la direzione Quindi dal 16 possiamo dire Si parte veramente con il waterfront Abbiamo una prima telefonata per lei Buonasera Buonasera Sono Andrea Pascucci Il sindaco mi conosce Ti aveva chiedata Io chiamo per questi nuovi cartelli Che sono apparsi nella città In zona blu I cartelli anti-smog Le lettereo finanze anti-smog Dalla sera alla mattina Un provvedimento di questo Come questo Il sindaco Metterà in crisi Piccole aziende e famiglie Lei si è reso conto di quello che è successo Ce lo spieghi così facciamo capire anche ai cittadini a casa Ai nostri telespettatori Pronto? Sì no dicevo ci spieghi la problematica così facciamo capire anche a casa La problematica è questa Che dalla sera alla mattina Gente che ha macchine un pochettino più vecchie Deve restare a casa O chi va a lavorare O chi deve andare a fare delle commissioni Non si può muovere Perché non è che è stato circoscritto In una zona in particolare Avete tappezzato tutte le vie di Fano Anche quella che porta a finire a casa mia Dai pompieri Che è una strada Praticamente in un'aperta campagna Quella nuova Quella c'è il cartello Non lo so io Di fianco a 5 metri c'è l'autostrada Che posso circolare Di qua no Ok Ringrazio così ci dà la possibilità anche di spiegare Intanto non è che noi ci alziamo la mattina E prendiamo questi provvedimenti Penso siano Prima che io diventassi sindaco Già si adottavano questi provvedimenti tutti gli anni Quest'anno è stata giunta la segnaletica Ma in qualsiasi città Ero a Parma Due settimane fa Ed erano c'erano tutti questi cartelli Andiamo a Pesaro ci sono A Senigallia ci sono C'è un provvedimento della regione Che obbliga i comuni Quando ci sono sforamenti Per l'emissione di PM10 Di ridurre il traffico Il transito di quei mezzi che sono maggiormente inquinanti E ci si riferisce alle auto benzine immatricolate Prima del 1997 Quindi parliamo di quasi 30 anni E delle auto Euro 3 diesel Che sono state immatricolate se non sbaglio Prima del 2005 Adesso potrei confondermi Per cui non è che Noi abbiamo un obbligo Di adempiere a questo provvedimento Poi la zona Pesaro-Fano in particolare Ha questi sforamenti più alti di altre città Ma se voi andate in giro Questi cartelli li vedete D'inverno in tutte le città Perché c'è questo obbligo E noi dobbiamo adempiere Poi è chiaro che Cerchiamo di accompagnare Non è che vogliamo impedire alle persone Di andare a lavorare Poi magari ci conosciamo Gli spiegherò anche alcune cose telefonicamente E fra l'altro Detto questo Stiamo predisponendo un atto Perché è vero che la regione Dico anche giustamente Perché poi ci sono anche sentenze Che vanno in quella direzione Quando gli inquinamenti Vedete anche le proteste Chiedono azioni Che in qualche modo ci tutelano Però è anche vero Che ci sono delle persone Magari che hanno maggiori difficoltà Ci possono permettere Di avere tutti un'auto Qui non si tratta nuova Perché parliamo 2005 E 1997 A benzina Quindi date molto lontane Però in ogni caso Ci può essere delle persone Che hanno delle difficoltà E allora stiamo predisponendo Un atto per richiedere Dei contributi Un atto politico A coloro che hanno Delle difficoltà Che magari hanno Dei redditi bassi Che non si possono permettere Ma qui parliamo veramente Di numeri molto bassi Perché come ripeto Si tratta di immatricolazioni Molto insomma Di ormai quasi 20 anni In un caso E altra quasi 30 E questa è la situazione Ripeto Non è che ci siamo alzati La mattina Lo scorso anno c'era Da quando sono sindaco Ci sono stati tutti gli anni Ma vedo anche nelle altre città Perché è un provvedimento Che ci viene richiesto Dalla regione Marche Ma anche altre regioni Hanno adottato Lo stesso criterio Quando ci sono Terminati scuramenti C'è l'obbligo Di ridurre La circolazione Dei mezzi inquinanti Quindi anche in quelle strade Abbiamo un'altra Persona Che vuole parlare con lei Buonasera Che c'è in linea Buonasera Sono Anna Buonasera Io volevo dire Premetto che non cerco Nessun lavoro Non ho nessuna attività Però mi meraviglia Il fatto Questa scelta Di aver chiudito I bianchi busanti Poi in particolar modo In queste feste natalizie Dove i commercianti Sappiamo benissimo Che stanno vivendo Un momento difficile Mi sembra che Quest'altro Stia giocando Un pochino Con i commercianti Chiude di qua Chiude di là A Sassonio Tutti i parcheggi A pagamento Li avete ridotti Ma fanno Di che cosa Dove vivere Secondo voi Voi fate politica Ma non andate Incontro al cittadino Mi dispiace Io come Come ho detto Non cerco lavoro E non ho nessuna attività Per cui Sono solo Sto contestando Perché non Mi sembra Una scelta giusta Perché I cittadini Vi hanno votato Ma voi Li state perdendo Mi dispiace Poi un'altra cosa Tu sei nato Alla di Marra Da Fanno a Pesaro Non c'è un sottopasso Chiuso Solo quello di Gimara È stato chiuso Per andare al mare Come mai Non ti sei dato da fare Per far sì Che la gente Potesse andare al mare Nella spiaggia libera Cioè che manca l'accesso No Adesso L'informazione Non è Precisa I sottopassi Sono tutti aperti C'erano alcuni Passaggi Che non sono Sottopassi Ma erano Caditoi Per raccogliere le acque E Ferrovia RFI Perché Parlo Prima che arrivassi Io Da sindaco Quindi Queste cose Sono molto antecedenti Se non sbaglio C'era Guzzi Come sindaco Ci fu Una persona Che si è fatta male Ha denunciato RFI E giustamente Il figlio ha detto Siccome non sono sottopassi Li chiudiamo Quindi utilizzati In realtà Io sono insidio Che questa città Ha realizzato Tre nuovi sottopassi Ne realizzarà Altri due nuovi Perché ho fatto Un accordo con RFI 4 milioni e mezzo Già stanziati Per due nuovi sottopassi Li faremo completamente Anche Viale Cairoli Ne abbiamo fatto Uno nuovo A Ponte Sasso Quindi La cosa è In senso inverso Per cui Poi è chiaro La signora ragione Quando dice Che forse Senza forse Occorre Occorrebbe Un altro sottopassaggio Regolare Fra Gimarra E Arzilla In quella parte Dove c'è La parte della spiaggia libera Ma non solo Per consentire L'accesso Su quello stavamo facendo Dei ragionamenti Perché consentirebbe Anche di ricollegarsi Con la pista ciclabile Al punto dove finisce Sulla strada Però ecco Dire che Io ho chiuso i sottopassi Mi sembra una cosa Ingiusta Ingenerosa Perché Da quando si sono Non è successo questo È successo In precedenza Anzi Ne abbiamo realizzati Tre nuovi E due Nuovi Ne realizzeremo Cioè uno Verrà completamente rifatto E l'altro nuovo Invece su Via Negusanti Vi invitiamo a seguire Il nostro telegiornale Occhio alla notizia Nei prossimi giorni Perché abbiamo già appuntamento Con l'assessore Tonelli Che ci darà tutti gli aggiornamenti Anche le tempistiche Del caso Dunque Ci dicono Problemi di rotatore Sono Maurizio di Seligaglia Sono passato Nella Pseudo Con Planare Fanese Da Prima del Ponte Sul Fiume Metauro Verso il Codma L'ho trovata deserta Scomoda E inutile A proposito Del Codma La rotatoria La rotatoria È l'ufficio A gara Appalti e contratti Per la gara D'appalto Quindi Entro il 31-12 Sarà anche questa Una gara pubblicata Poi il tempo Della pubblicazione Della commissione Per scegliere La vincitrice E poi i lavori Via delle Nasse Ci sono ancora Le tracce dal 2005 Degli scavi di allaccio Al metano Sarebbe da abbassare Il piano stradale Ci dicono E anche rifare L'asfalto Per quanto riguarda I parcheggi Ad esempio Quello dell'ex forobario Insomma ce ne sono altri Che rifarete Chiedo alla regia Se ci può far vedere Le slide Che avete mostrato Anche questa mattina In comune Per far vedere Bene a casa Con la lista Dei lavori pubblici La spesa in conto capitale Perché ecco Vediamo Sì fra l'altro Quelli non ci sono Neanche indicati Ma in realtà Sono già stanziate Le risorse Forobario Pronto soccorso Sport park Attendiamo Stiamo dando l'incarico Per fare la progettazione No Non ci sono in questi Perché sono già state Stanziate in precedenza Sono destinate Per parcheggi Per la sistemazione Quindi Sono già Preventivati Abbiamo già individuato A chi affidare il lavoro Per la progettazione La progettazione Qui non si tratta Di una progettazione complicata Ma l'ufficio Si era concentrato Sulle strade Perché dovevamo Appaltare Entro il 31 d'oggi Perché altrimenti Ci sarebbe andato in avanzo Le risorse Avremmo perso un anno Lì in realtà Le risorse sono già Vincolate Per cui possiamo farlo Anche a gennaio Mentre andrà Stesso a giorni La gara d'appalto Perché anche quello È stato terminato Il nuovo parcheggio Di via risorgimento Che verrà ampliato Maggiori posti auto E sarà anche Più bello Perché ci saranno Nuove piantumazioni E la sistemazione Del manto Allora Se sono previste Mettete in tutte quelle Proviamo a leggere Inoltre Mettete in tutte quelle Continue rotatorie In zona casella autostradale Qualche indicazione Che indichi Ancona O comunque La direzione stradale Della strada Statale 16 Che è molto lontana Dal caos rotatori Quindi Migliorare anche La cartellonistica Andiamo avanti Adesso su queste Alcune Non sono state ancora Consegnate Formalmente al comune Ah quindi non è Alcune non sono ancora Consegnate Consegnate Formalmente al comune Sabato scorso A Senigaglia C'è stata l'ennesima alluvione Per quanto riguarda Ponte Sasso Concretamente il comune Che cosa farà? Beh Ad esempio Gli scolmatori a mare Chiedono Come scusi? Ad esempio Gli scolmatori a mare Chiedono se è possibile Insomma fare qualcosa Per evitare Allora Intanto Io ho avuto po' Di fare questa assemblea Pubblica Con tutti i residenti Per lo meno Quelli che hanno partecipato Mi è stata Molto Una presenza Nutrita Come giusto Che sia Ho spiegato Che il nostro metodo di lavoro È lo stesso Che abbiamo adottato Quando c'era stato il problema Delle esondazioni Di Rio Crinaccio C'è capire veramente Qual è il problema Perché Poi siamo come nel calcio Tutti allenatori E rischiamo Di destinare risorse Senza risolvere il problema Capire Abbiamo molti indizi Ovviamente È chiaro che Certi fenomeni Si sono accentuati Con la realizzazione Della terza corsia Questo è fuori discussione Però Sono di diverso genere La cosa che abbiamo fatto Con Rio Crinaccio Abbiamo capito Qual era l'intervento Da fare Poi Lo abbiamo realizzato E abbiamo visto Che insomma A retto Da quella volta Lì c'erano due Tre esondazioni All'anno Prima che io arrivassi Qua vogliamo fare La stessa cosa L'ho già spiegato Poi è chiaro Che ci sono dei fenomeni Molto accentuati Perché In quel giorno specifico Prima di Torrette C'erano 80 mm Di precipitazione Lì erano 120 C'è anche un fenomeno Che si è accentuato Ma Il problema È anche È strutturale Perché ovviamente Come dicevo Ci sono alcuni Tipi di problemi Che vengono anche Dal di fuori Del nostro comune Dalla collina Quindi Stiamo dando Questo incarico Per capire Quali sono gli interventi Veri da fare Alcuni li abbiamo già capiti E poi cerchiamo Attraverso stralci Di intervenire Per quello che riguarda Gli scolmatori Anche su questo C'è un piano Con ASET Che riguarda Ovviamente Non solo Fano Ma anche il comune di Mondolfo Ho coinvolto anche Ci siamo visti Anche insieme al sindaco di Mondolfo Anche con Il consorzio di bonifica Per fare Una progettazione Molto articolata Per richiedere Risorse al PNNR Per Un intervento Che va a attenuare Questo fenomeno Però Dobbiamo capire Perché c'è già Un'ipotesi Di lavoro Dobbiamo capire Se effettivamente È quello che ci serve Se è la scelta giusta Andiamo avanti Con la richiesta Delle risorse Però ecco È una situazione Complessa Sulla quale Però intendiamo Intervenire Poi è chiaro C'è tutto il fenomeno Più a sud Di Ponte Sasso La parte di Marotta Che non è di nostra competenza È del Comune di Mondolfo Ma anche questo Non significa scaricare Dobbiamo Ci siamo anche sentiti Abbiamo fatto Insieme ai due comuni La richiesta Di Stato di emergenza Vediamo se viene accolta Per questo Dobbiamo E su questo Essere chiari Perché noi abbiamo chiesto Di segnalarci I danni subiti Però dobbiamo Avere il riconoscimento Prima della regione Che a sua volta Lo richiede Al governo Se questo viene riconosciuto C'è il risarcimento Altrimenti no E questo Bisogna dirlo Con chiarezza Le raggruppo Alcuni messaggi Le chiedono Per i loculi Al cimitero di Carignano Poi per quelli di Rosciano Il cimitero centrale Che cade a pezzi E poi l'olivo Lo stesso Insomma chiedono Manutenzione Sì Allora alcuni ci vedono Anche qua Ci sono alcuni interventi Che abbiamo già stanziato Per il centrale Il monumentale Ma già Nei mesi scorsi Con una variazione Di bilancio Nel nuovo bilancio Di previsione Ci sono Previsioni di nuovi loculi A cominciare Da quello di Rosciano Quindi un po' alla volta Ogni anno Cerchiamo di fare Degli interventi Come abbiamo già fatto In passato Anche qui vorrei ricordare Quando sono Arrivato C'era una Perché poi ci si dimentica In realtà c'era una situazione Veramente impegnativa Dove non c'erano più loculi Mi trovavo delle situazioni In cui la gente Veniva appoggiata Per giorni Per chi in attesa Che si liberassero Degli spazi Oggi questa situazione Non c'è più Perché Non per fare Però mi sembra anche giusto Bisogna sempre segnalare Quello che non va Però non dimentichiamoci Anche per quello che mi riguarda Dove siamo partiti Perché se torniamo indietro Di sette anni Oggi abbiamo una situazione Completamente Nuova E completamente diversa Molto avanzata Rispetto a prima È previsto un ponte ciclabile Sul fiume Metauro Con relativa pista Ciclabile verso Marotta? Allora Su questo Stiamo già dialogando Insieme alla regione Qui c'è il tema Della ciclovia Dell'Adriatico Dove arriveranno Altri stanziamenti Abbiamo già iniziato Abbiamo scelto Di non partire da Fano Andando verso Ponte Sasso Ma da Ponte Sasso Venendo verso Fano Abbiamo realizzato Il primo tratto Ponte Sasso-Torrette Stiamo progettando Abbiamo già dato L'incarico Per la progettazione Degli altri due tratti Metauriglia E Torrette E Vogliamo anche Prevedere Il ponte L'attraversamento Come è già stato Programmato Per il Cesano Questo Stiamo dialogando Con la regione Fra l'altro Ci ha avanzato Anche una proposta Sulla quale adesso Non voglio intervenire Perché è giusto Che lo facciamo Anche insieme Per ragionare Proprio su questo Tra l'altro Avete visto anche Alcuni annunci Ci sono molti milioni Che si mettono Per ultimare Tutta la ciclovia Dell'Adriatico E noi siamo nel tratto Che è ancora da fare Per cui prevedo Anche su questo Risorse A breve periodo Dobbiamo ancora parlare Di piazze Del parco Dell'aeroporto Insomma Tanti altri progetti Ci fermiamo Per qualche istante Di pubblicità Riprendiamo subito Con una telefonata Regia Giusto? Sentiamo chi c'è in linea Buonasera La sentiamo Il sindaco È qua che l'ascolta Buonasera Buonasera sindaco Buonasera Sono Consolini Abito qui In via Dante Abito in via Dante Ligieri No? Ho visto che Sono stati iniziati Un po' i lavori Per dargli Anche un pochino A questa via Un pochino Di lustro Come merita Perché è un bel viale Di fano Insomma Niente La mia cosa Il traffico Qui È immensamente Aumentato Anche Anche perché Tanto lo sappiamo Che nella zona porto La zona porto Lavora Poi rientrano i canyon Passano i canyon E quelli che vendono il pesce Tutti devono lavorare E siamo d'accordo No? Ecco Però si potrebbe Fare un qualcosina Di più Per avere Una certa Serenità Anche Di noi cittadini Che abitiamo In questa via Perché purtroppo Anche vedo Che qua Molti rispettano Le regole E tutti Vanno a velocità Adeguata Però c'è sempre Qualicuno Che di notte Cammina Come cose Che noi siamo sopra Ci sono dei rumori Però purtroppo Lo so Che è difficile Avere tutto Però ho visto Che questa via Non ha mai Brontolato Come tante vie Che sono a Fano E che brontolano Ho fatto tante Di quelle rotatorie E quei giri E quanto Versù Non si scappa mai E questo No Non lo voglio E penso che Non lo vogliono Neanche questi qua Però ecco Se un pochino Viene più tutelata Questa via Io sono contento E penso che sono contenti Anche quelli che abitano Perché sento le proteste Di tutti Però mai nessuno Ha fatto qualcosa Ecco Per dire di questa via Un pochino Trascurata Mi sembra Scusi Anzi La ringrazio La ringrazio Grazie a lei Perché mi dà la possibilità Anche di spiegare E questo è un atteggiamento Serio E responsabile Perché si capiscono Le difficoltà E giustamente Si richiedono Degli interventi Lì abbiamo dialogato Con i residenti Se abbiamo fatto Degli incontri Hanno fatto Delle richieste Di ridare Un po' di decoro E di mettere Anche in sicurezza Quella strada A cominciare Da chi cammina Dei pedoni Perché con le macchine Messe tutte A spina di pesce Rendono impossibile E obbligano Le persone Che con la carrozzina Di passare Al centro della strada Quindi Abbiamo già un progetto Che abbiamo condiviso E Abbiamo iniziato Adesso Ci siamo fermati Perché Devono riprendere I lavori di Aset Per i sottoservizi Che hanno interrotto A inizio estate Non so se vi ricordate Che giustamente Si è detto Non ha senso Fare i lavori In piena estate Che aumentano Le presenze Delle macchine Quindi Sono state posticipate E ovviamente Si fanno adesso Il resto È già programmato C'è Un aumento Del traffico Ci sono alcuni mezzi Perché giustamente C'è anche altro lavoro E quindi Tutti devono Avere la possibilità Di espletare Si tratta di Metterle in sicurezza Renderle fruibile Ma garantendo Anche Per chi ci vive La giusta Tranquillità Ma anche Non è solo Anche la questione di decoro Anche per l'estate Quando ci sono turisti Quando c'è la gente Che va al mare Avere marciapiedi Avere spazi Per poter camminare Migliora la qualità Della vita Anche In una città Specialmente nelle zone Più vicine ai servizi Balneari Quindi si va in quella direzione Per cui vorrei dire Tutti i ragionamenti Che abbiamo fatto Stanno proseguendo Adesso Si devono fermare un attimo Voi li capite Purtroppo Anche per fortuna Si fanno i lavori Nei sottoservizi Non possiamo farli In contemporanea Quindi dobbiamo Aspettare Che finiscono E poi riprendere Rimaniamo in zona Sassonia In Viale Cesare Battisti Che lavori sono previsti Viale Cesare Battisti Abbiamo già avuto Un finanziamento Di quasi 900 mila euro Lo riqualificheremo tutto Sia Rifaremo l'asfalto Dopo l'illuminazione Che abbiamo portato Qualche anno fa Rifaremo tutti i marciapiedi A destra E a sinistra Con Seguendo le orme Come il marciapiede Che viene dalla stazione Verso Il viale E Con quelle risorse Sistemeremo anche La parte di via Garibaldi Vecchia Diciamo Dopo quella nuova Quindi è un intervento Importante Anche l'area verde E anche le piazze Andracosta Marcolino Sì Intanto Allora questo Già stanziate Stiamo dando L'incarico Per la progettazione Qui abbiamo una scadenza Anche per ultimare i lavori Per cui È una botte di ferro È solo questione Di tempo Ma non lungo Poi piazza Marcolini Lo stesso Abbiamo avuto il finanziamento Per cui risparmieremo Le nostre risorse E anche lì C'era stato un progetto Che abbiamo fatto Un po' a discutere Abbiamo ascoltato Le osservazioni Adesso Riprenderanno La progettazione Piazza Andrea Costa Invece Stiamo attendendo Abbiamo anche qui Richiesto un finanziamento Ma siamo Siamo ottimisti Perché Dalle notizie informali Che abbiamo Dovrebbe arrivare Questo ulteriore finanziamento E quindi Potremo procedere Anche in questa direzione Ritorniamo Sul lungomare di Sassonia Perché Intanto chiedono Se l'intervento Delle scogliere È imminente Perché altrimenti I danni saranno irreparabili Sempre per le scogliere Invece Da Ponte Sasso Ci dicono Che avete destinato I fondi Per la difesa della costa A pari 500 mila euro Per salvaguardare Esclusivamente La zona dei go-kart Dove tra l'altro Non ci sono attività Ci dicono Esaltando a piedi pari Per l'ennesima volta La zona di Ponte Sasso Le ricordiamo Che gli operatori balneari Sette anni fa Si sono fatti carico Finanziando proprie spese Il progetto Per il riaffiorimento Delle scogliere Ed allora È stato fatto solo Un lavoro misero E inutile Si Anche sulla difesa Della costa Sfido A trovare Nella storia Di questa città Interventi Come quelli Messi in campo In questi anni Perché Dobbiamo dirle Poi che i problemi Ci sono Io non discuto Però Bisogna ricordare Sempre Io immagino Anche chi abbia fatto Questa osservazione Che ha ragione E c'è una necessità Sulla quale Stiamo monitorando Abbiamo una programmazione Però Vorrei ricordare Insomma In questi anni Sono stati distanziati Non tutti per merito Ma per una Copartecipazione Di risorse Dell'amministrazione comunale Quindi dei cittadini Che sono del sindaco Cosa che in passato Non è mai stata fatta Probabilmente Si rimaneva sempre indietro Per questo Grazie anche L'impegno Della regione In passato E qui devo ringraziare L'allora consigliere Regionale Minardi L'assessore Sean Pichetti Per 8 milioni Di euro Sono arrivati E avete visto Insomma Lavori Non sono bastati Abbiamo rimesso A disposizione Alte 300 mila euro Per E siamo L'unico comune Che mette il 50% Per finire Quell'intervento Che sotto gli occhi Di tutti L'effetto di erosione Che sta portando Per ultimare i lavori Di Sassonia Nord Qui aspettiamo La regione Che faccia uscire Questo è un benedetto E ce l'hanno finanziato E ce l'hanno finanziato Gimarra Per aumentare la difesa Delle scogliere 50% Di risorse Le chiedono Intanto Se pensate Di riqualificare Tutta l'ex pista Dei go-kart E poi Se ci sono Delle novità Per il casellino Di Fano Nord Sì Allora Le chiedono Carri parlavo adesso Prima facciamo La difesa della costa Lo mettiamo in sicurezza Perché se no Facevamo come Viale Ruggeri Che ogni anno Ci andava a spendere Quei 100 mila euro Per risanare La situazione Causata dall'erosione Poi lì c'è Un famoso Vecchissimo finanziamento Che per questi giri Tra i ministeri Regione Ci fanno impazzire Per la strada Delle barche Che Deve essere realizzato Il progetto è già fatto C'è già l'esecutivo Quindi Aspettiamo solo la firma Di questo benedetto Ministero Che viene procrastinato Di mese In mese Dopodiché Si può ragionare Anche di una riqualificazione Casellino Fano Nord Stanno progettando Il casellino Così mi ha detto L'assessore regionale Con il quale Ho parlato La società autostrada Stava lavorando Sulla progettazione Perché Su quello L'ho già ricordato Era già previsto Nell'accordo Per le opere Compensative Quindi Non è Finché non si realizzerà Il casellino Di Fano Nord Non si avrà La società autostrada Non avrà Otemperato All'accordo Stato Regioni Per quello che riguarda Le opere compensative Buonasera Sindaco Chiedo gentilmente A nome dei turisti Che visitano Fano E dei cittadini Bisognosi Di attivarsi Per predisporre O ripristinare I bagni pubblici Sarebbe un primo segno Di accoglienza E di assistenza Ma soprattutto Di esigenza Ha perfettamente ragione Perché poi Tutti ne abbiamo Bisogno E Quelli del mare Li ripristiniamo Li vogliamo inserire Anche in centro Volevamo farlo Già da quest'anno Ma non Ci bastavano Le risorse Perché Sembrano Anche per quelle Occorrono Risorse Significative Ma le abbiamo Predispone Abbiamo già visto Il tipo Da installare Quindi Arriveranno Anche questi Prima della fine Del mio mandato Ci stanno facendo Ancora un elenco Di strade Da asfaltare Però vi invitiamo Di riguardare Anche la puntata Sui nostri canali social Perché col sindaco Ha parlato di asfaltature All'inizio della puntata Avrei piacere Di sapere Quando attivano Le pompe Del sottopassaggio Del Lido Piazza La Mendola Sì Oggi abbiamo Deliberato Il diritto Di servitù Per Enel Per poter Installare La centralina Dopodiché La ditta È già stata Individuata Però questo Purtroppo È un lavoro Che non si fa In due settimane Quindi Dovremmo realizzare Questa centralina Che ha due funzioni Una per la funzione Proprio del comune Per l'attivazione Delle pompe L'altra Per rafforzare La fornitura Di energia elettrica Nella zona Lido Perché Non so se ve lo Ricordate Ma Nell'estate scorsa In più occasione Ci si sono stati Dei black out E quindi Era necessario Rafforzare Con questa nuova centralina Quindi L'abbiamo raggruppate Invece di averne due Ne realizziamo una Poi c'è il cablaggio Da fare E poi l'installazione A proposito di quello Però il resto È tutto fatto È a posto Però giustamente Si è fatto Ma non funziona È vero Finché non ci sono le pompe Non le pompe Le abbiamo Finché non c'è la centralina E non dipende solo da noi È stato questo dialogo Con Enel Però adesso È solo questione di tempo Dicevo a proposito Di quello che avete Deliberato questa mattina Si è parlato anche Del prolungamento Dell'orario Per le scuole Dell'infanzia Che era stato Tanto richiesto Dalle famiglie Sì questa è una cosa importante Perché anche questo bilancio Di previsione In questi anni Noi abbiamo sempre Fatto uno sforzo Guardando Tutelando I servizi Alla persona Perché pensiamo Che un'amministrazione Che ha i nostri valori E la nostra cultura Debba avere un occhio di riguardo In questo senso Allungare l'orario Significa andare incontro Anche alle esigenze Delle famiglie Di chi lavora E sappiamo che Non tutti hanno un parentato Hanno magari nonni Che possono gestire Anche i bambini piccoli E quindi questo servizio È un servizio Importante Ed è una risposta Ad un bisogno Che ci veniva Segnalato Da più parti E quindi È un investimento Che abbiamo fatto Di cuore Volevo sapere A quando La fibra al 100% Fino ad un gigabyte In altre parti Della città Questo non ve lo so Dire con precisione Ok Andiamo avanti Allora con Con questo Il Parco delle Rose Verrà riqualificato Soprattutto la pista Di pattinaggio Frequentata Da tanti bambini Sì Ha bisogno Lo sappiamo Stiamo lavorando Anche l'assessore Sta lavorando Molto in questo senso L'obiettivo Che ci siamo dati È che tutti i quartieri Abbiano degli spazi Adeguati Riqualificati E accoglienti Avete visto Abbiamo iniziato Dalle zone più periferiche Perché Spesso si dice Pensate solo al centro Non è così Abbiamo fatto diversi interventi Partendo da Carrara Per citare un esempio Adesso arriveremo A Rosciano In tutti i quartieri Andremo a riqualificare E anche il Parco delle Rose Che Io sono andato a vedere In più occasioni Ha una necessità Quello È un intervento impegnativo C'è anche lì Una bella realtà Di partecipazione Di associazione Di quartiere Che in tal senso Sta dando delle indicazioni E le ringrazio Perché questi sono lavori E sono un bel modo Di vivere anche La nostra città Rendendoci tutti Protagonisti Come avviene anche In altri quartieri Abbiamo noi Una bella realtà Di volontariato E di associazioni Quindi lo programmiamo In questi soldi attuali Non lo vedete Perché prima dobbiamo Realizzare il progetto E poi lo finanzieremo Fra l'altro È previsto anche Un intervento A Fano 2 Di riqualificazione Della parte centrale Che è una cosa Che da più parti Ci avevano chiesto Arriviamo dappertutto Poi un giorno Metteremo Quando ci arriviamo Alla conclusione Diciamo Vi ricordate Come era nel 2014 Guardiamo come oggi E vediamo Qual è stata La differenza Le cose fatte Perché poi Al di là delle chiacquere Il tempo è galantuomo Ci misurerà Sulle azioni concrete Vere Realizzate Le unisco Due messaggi Che riguardano In particolare Via L'Italia Intanto L'illuminazione A led Appunto In Via L'Italia Perché hanno fatto Soltanto delle traverse E poi Perché non vengono sostituiti Gli alberi abbattuti Lungo i viari di Fano Via L'Italia Appunto Via Le Buozzi Via Indipendenza Via Abazia Eccetera In illuminazione E alberi Sta nella nostra filosofia Quella di aumentare La piantumazione Degli alberi E su questa direzione Lo vedete Anche il mese A fine novembre Abbiamo Inaugurato Il Bosco della Memoria Ricordo le persone Che ci hanno Lasciato E lì sono state Piantate Oltre 200 Piante Ogni nato Piantiamo Una nuova Pianta In questi anni Insomma Ogni anno Abbiamo aggiunto Numeri significativi Andremo a sostituire Anche Quelle piante Che per ragioni diverse Sono state Abbattute In quel caso Perché erano a fine vita Quindi Verranno sostituite Con piante adeguate L'illuminazione L'illuminazione Quello sta in un percorso E ogni anno Come vedete Rinnoviamo Punti luci Con punti Con luci Minore al consumo E Un po' alla volta Arriviamo dappertutto Il parco dell'aeroporto Il lotto Il secondo e il terzo lotto È in gara d'appalto Quindi anche questo Come la rotatoria Come gli asfalti Come il parcheggio Sono quegli appalti Che escono Entro il 31-12 Per cui Una volta uscita la gara Commissione Nomina Del affidamento Della ditta Che vincerà E inizia i lavori Sindaco Perché non fa abbellire Con del verde urbano La pista ciclabile Che da Giumarra Porta a Fosso Seggiore Ci sono degli oleandri Messi a dimora A suo tempo Dalla provincia Segniamo Di abbellire un po' Insomma Quella lì Ci chiedono anche Il parcheggio Del pronto soccorso Verrà asfaltato Giusto Sindaco Come dicevamo prima Lo ricordo Perché magari era distratto Stiamo affidando L'incarico Per la progettazione È una piccola progettazione E per affidare La gara Lo stadio a pezzi Come l'alma Si può fare qualcosa Sindaco? Lo stadio Ne facciamo un pezzo alla volta Perché Spogliatoi Tribuna Gradinata Adesso abbiamo fatto La tettoia Un pezzo di gradinata Vorremmo fare Nuovi interventi Però ecco Dobbiamo pensare Non esiste solo L'impianto Dello stadio Ma ha bisogno Di interventi Come dicevo Ogni anno Faremo un pezzo E anche sul Palasport Investirete sugli impianti Sport Allora Sul Palasport Adesso abbiamo concluso L'iter Urbanistico Quindi adesso Ci avviamo Alla fase Della progettazione Le chiedono Se è possibile Fare via l'Europa Vicino alla scuola Poderino A senso unico Perché il doppio senso È pericoloso Tra l'altro Lì ci sono anche I ragazzi I bimbi Che escono È un ragionamento Che si può fare Però Qui È come i tubi Se chiudiamo un tubo Poi l'acqua Prende altri percorsi Con le strade La stessa cosa Va fatto un ragionamento Non solo su una via Ma su tutto Perché Mettere una via A senso unico Significa poi aumentare Il peso Su altre strade E Non sono un ingegnere E quindi questo lavoro Lo facciamo fare agli uffici Però Ha ragione Nel senso che Dice che lì c'è anche una scuola Verso Dove c'è un lavoro Anche a scuola Vado da solo Quindi Con la messa in sicurezza Di quegli Di quei spazi Per cui La strada La direzione E quella lì Senso unico No Non glielo posso dire Adesso Non sono anche In grado Le ultime due domande Al volo Perché siamo in chiusura Vedo nel bilancio Che c'è anche il restauro Delle chiese San Francesco San Pietro in Valle Pensate appunto Di prevedere anche Questo tetto Allora San Pietro in Valle Che è bellissima Adesso Stanno facendo Tutte le indagini Per capire Anche lì Dobbiamo capire Qual è il problema Che da tanti anni Di umidità Perché è quello Che ci crea Un disagio Probabilmente Si è rotto Un equilibrio Mi dicono Quando Ma qui torniamo Indietro di decenni Sicuramente Al secolo scorso E Quando hanno messo Mano Alle tombe Sotto il pavimento Ha rotto Quell'equilibrio E si è creata Questa situazione Di umidità Che va a periodi alterni E quello Crea problemi Agli stucchi Adesso Stiamo facendo Un'indagine Risistemiamo Per poterla riaprire In sicurezza Ma Abbiamo messo Delle risorse A disposizione Però dobbiamo capire Cosa fare E questo Quindi L'incarico E per spiegarci Se riescono a comprenderlo Ok Perché Ripeto Forse il gioiello Più bello Della nostra città Per noi riguarda San Francesco San Francesco Che ha questo fascino Con questo luogo Che in tanti ci invidiano Dove le sue foto Delle sue foto Delle eventi Delle iniziative Girano Veramente Anche fuori Dall'Italia Adesso stanno facendo Un lavoro Di verifica Sullo stato Di salute Perché lì c'è Un problema Della nostra città Non essendoci il tetto La pioggia Si infiltra E crea delle problematiche Quindi Intanto La messa in sicurezza Poi Anche lì c'è un dibattito C'è chi vorrebbe Ricoprirla Chi vuole rimantenerela aperta Sicuramente Va adottato Un problema Di messa in sicurezza Per evitare Che la pioggia Si infiltri Si insinui Nelle pareti C'è la Politecnica Delle Marche Con il professor Clini Che stanno facendo Degli studi E hanno già iniziato Stiamo pensando Anche delle iniziative Per l'estate Che lascerà Stupiranno E poi Insomma Ci sarà una discussione Su quello che dovrà essere Il vero intervento In seguito Su quell'aspetto Non c'è nessuna decisione Assunta Ad oggi È la messa in sicurezza Perché questo Bene Va preservato Con le sue Suggestioni E il suo fascino In due minuti Veramente Per quanto riguarda Il teatro E la federiciana Lì Che tipo di intervento Verrà eseguito Allora Sulla federiciana C'è stata anche Una bellissima iniziativa Organizzata All'ordine degli architetti Molto partecipata Stiamo andando avanti Con la progettazione Stiamo facendo Dei sondaggi Per capire Nel sottosuolo Se ci sono Situazioni Quella è una zona Molto sensibile Sotto l'aspetto Archeologico Contiamo Di avere Entro l'estate Il progetto Esecutivo Stiamo già Dialogando Per capire Le risorse Come intervenire In parte Possono essere Risorse nostre In parte Da altre fonti Quello è un progetto Che piace Per esempio Prima parlavamo Di Lione Ho mostrato Questo progetto Come la fabbrica Del carnevale Devo dire C'è stato Uno stupore Un desiderio Una voglia Di venire a visitare La città Teatro Romano Ex Filanda Anche lì Stiamo procedendo Abbiamo fatto Tutti i lavori Di staticità E lì stiamo Lavorando Sul concept Per capire Quale deve essere Il contenuto E quale tipologia Di intervento Fare Perché quello Dovrà diventare Un museo Originale Di forte richiamo Internazionale Perché dobbiamo Volare alto Se vogliamo Che questa città Continui A crescere Quella è la direzione È un unicum Che abbiamo Solo noi Ed è qualcosa Di straordinario E se pensiamo Con la fabbrica Del carnevale La memoteca Che è diventata La seconda piazza Di partecipazione Per le tante attività Che ci sono La nuova federiciana E il teatro romano Con L'ex filanda E le varie Riqualificazioni Delle piazze Insomma Veramente Quando io dico Fano diventerà La città più bella Delle marche Adesso non voglio esagerare Ma Se non è la più bella È sicuramente Tra le più interessanti Non solo nelle marche L'ultimissima domanda Che ne sarà Dei rifiuti Lasciati davanti Alla chiesetta Di Centinarola Dopo un mese e mezzo Dall'incendio Sono ancora lì Le cooperative Se ne vanno I residenti di Centinarola Invece no È possibile Intervenire anche qua Verifico Verifico Sindaco Grazie per essere stato Con noi Grazie a voi Ci rivediamo Nei prossimi lunedì Anche perché Una volta al mese Lei torna ospite A Primo Cittadino Sì colgo l'occasione Visto che Prima delle feste Di Natale Non ci sarà Un nuovo Primo Cittadino Che mi vedrà ospite Quindi A coloro Che non avrò modo Di incontrare Personalmente Voglio augurare Tutti Buone Feste Buone festività Sapendo che Abbiamo lasciato Alle spalle Dei momenti difficili Siamo ancora In emergenza Però Stiamo tornando Sempre più Ad una normalità E quindi L'augurio Che anche queste festività Si possono trascorrere Nelle migliori Dei modi E in serenità Grazie Sindaco E poi ci riaggiorniamo Domani dopo l'incontro Inerente alla Fanno Grosseto Grazie a tutti voi Per averci seguito E buona serata Grazie a tutti